buongiorno signore e signori ragazze e ragazze oggi voglio parlarvi di bmw 980 gs del 1985 è la moto che è stata utilizzata da gaston ray e alla parigi dakar vediamo qualche indicazione tecnica molto interessante anche per il tipo di motore anzitutto motore è un motore di tipo boxer il boxer nasce a partire dagli anni 20 e viene via via migliorato di anno in anno e fa parte della filosofia bmw secondo la quale non ci sono rivoluzioni da effettuare ma solo raffinamenti quindi evoluzioni e così è stato per bmw l'architettura dei due cilindri contrapposti nasce da un motore a stella perché bmw era impegnata in campo aeronautico quindi produceva motori per aerei cosiddetti a stella mantenendo i due motori contrapposti e orizzontali hanno ottenuto questo tipo di motore qual è il vantaggio che risulta estremamente equilibrato già per sua natura ed ha vista la posizione poi all'esterno del telaio della moto quindi con le sia le testate ma anche i cilindri esterni al telaio un ottimo raffreddamento infatti potete vederlo anche dal dall'immagine il motore è raffreddato ad aria e diventa poi il simbolo di bmw tanto che è ancora attualmente utilizzato ma veniamo alla moto che è una moto quindi piuttosto convenzionale quindi se partiti da una moto che sfrutta in pratica 22 elementi cioè due moto di serie in pratica e mettendo insieme un gs 80 quindi parti che venivano da una gs 80 e parti da una r 100 rs quindi i cilindri sono della mille così come la testa e carburatori mentre pistoni sono realizzati dalla male azienda appunto di costruzione dei di pistoni che hanno la caratteristica di avere un mantello più corto rispetto quelle di serie ma con tre fasce elastiche alla lubrificazione provvedono poi tre litri di olio contenuti nella coppa e raffreddati tramite un radiatore posto sotto il canotto di sterzo il filtro dell'aria di derivazione automobilistica quindi di una bmw 2002 ti sfrutta gli stessi condotti presenti sulla gs 80 e si trova sopra il serbatoio lo scarico avviene molto liberamente li vedete due attraverso due megafoni quindi aperto che ricevono i gas da due tubi compensati con un diametro da 38 mm l'accensione elettronica della bosch con regolazione automatica dell'anticipo quindi siamo in presenza del kickstarter vedete qui la leva della messa in moto in una posizione tipica dei motori bmw inoltre è previsto un piccolo motorino di avviamento che si avvale di una cella di una batteria insomma celle secche ricaricabile solitamente veniva avviata però con un mezzo d'assistenza oppure con il kickstarter però dopo averla messa sul cavalletto centrale appoggiandosi sul cilindro il gruppo trasmissione cambio si vale del classico 5 marce del questo tipo di motore con la frizione che rimane monosecco a secco scusate monodisco a secco potenziata però rispetto alla moto di serie modificati sono anche i condotti per l'olio che sono stati rivisti per compensare la diversa inclinazione del del motore rispetto a quella del gs 80 da cui appunto deriva classica anche la parte ciclistica con un telaio doppio tubi d'acciaio al cromo moblideno con configurazione a doppia culla che si vede abbastanza quindi questa parte anteriore bianca vedete il doppia culla mentre posteriormente c'è in arancione un teleietto addizionale e con ampi rinforzi qua non visibili nel canotto di sterzo la parte anteriore ricalca quella del gs 80 con la differenza con la differenza che nella parte posteriore è bullonato appunto come sulle moto da cross per agevolare il lavoro dei meccanici quindi non è un telaio unico ma è separabile nella parte posteriore anche la sospensione posteriore presenta delle differenze quindi siamo di fronte a un forcellone tradizionale dove appunto sul lato destro è alloggiato l'albero di trasmissione quindi vi ricordo che va mantenuto la struttura d'albero di trasmissione e il fodero montato sulla gs 80 allungato fino a 510 mm sul lastro sinistro che vediamo qui sul lato sinistro eccolo qui vedete il braccio convenzionale a sezione ovale con fazzoletti di rinforzo in lamiera su questo forcellone trova poi trovano poi posto due unità a gas le vediamo qui con il serbatoio separato della white power di derivazione cross istica che offre un ampio escursione di 280 mm e perché si è scelta questa configurazione anzitutto perché è molto semplice e inoltre rompendosi uno dei due ammortizzatore è possibile comunque rientrare con l'altra unità l'avantreno invece made in italy perché abbiamo una forcella teleidraulica marzocchi di estrazione cross istica con stelle da 41 mm e che offre 300 mm di corsa l'impianto frenante è con un doppio disco brembo da 260 anteriormente e dotato anche di pinza flottante e un tamburo da 200 mm posteriormente azionato da un cavo flessibile i cerchi sono dell'acroni alluminio senza bordatura di tipo cross istico e passando alle sovrappostrutture vediamo che in realtà si tratta di una scelta veramente di tipo razionale quindi frutto dell'esperienza come abbiamo detto all'inizio di questa casa nel corso degli anni anzitutto il serbatoio principale con una capacità di 50 litri è formato da due unità separate da due gusci in kevlar e che appunto essendo separati permettono comunque di evitare che cadendo rompendo una parte si svuoti il completamente il serbatoio inoltre sono riempiti con una speciale schiuma sintetica per evitare lo sciacquio del della benzina e questa schiuma occupa solo l'1,1 per cento della capacità del serbatoio sotto la sella vedete qui non naturalmente è stata modificata in pelle scamosciata trova posto un secondo serbatoio sempre in kever di 10 litri di capacità quindi in totale sono 60 litri e a excezione del serbatoio che è stato realizzato da un'azienda specializzata tutte le parti di plastica sono state realizzate dalla ditta italiana cervis quindi sia il parafanghi e anche il cupolino su disegno esclusivo al cupolino vedete viene applicato poi il parabrezza trasparente della k 100 che viene offerta naturalmente per avere un maggiore riparo aerodinamico sul percorsi stradali sulle piste più veloci i programmi comandi scusate a pedale sono gli stessi della gs 80 come anche le pedane diverso invece il manubrio un rental analizzato oro sul quale vengono montate le leve il comando del gas della magura modello duo e una serie di accessori per l'impiego realistico il contachilometro multifunzione della bmw e due scatolette con pomello che dove scorrono le note del road book al centro c'è una bussola di derivazione nautica la scatola principale a sinistra metà a destra dove c'è più piccola una possibilità per rai e di reggere le note che lui stesso redigeva all'esternità sinistra invece c'è un lettore di cassette walkman che serviva a gaston per riascoltare le note eventualmente per ascoltare della musica completa nel quadro l'indicatore di temperatura dell'olio la spie dalla pressione del circuito di lubrificazione e l'illuminazione è fidata a un singolo faro da 135 mm derivato da quello di serie e protetto da una grata metallica gli attrezzi poi come si vede bene dall'immagine sono sulla borsa apposta sul serbatoio eccolo qui davanti dotate di scomparti mentre sul portapacchi posteriore c'è un'altra borsa in pelle che contiene il necessario in totale la moto pesa con i due serbatoi pieni e in assetto di gara 228 kg bene quindi se vi è piaciuto vi chiedete mettere un like se non vi è piaciuto dislike attivate la campanella dipende da quello guardate iscrivetevi al canale e commentate qui sotto grazie mille ciao e buona giornata